Buonasera a tutti dal Tg regionale per sordi, due agenti della Polizia Municipale feriti e finiti al pronto soccorso. Uno con alcune costole fratturate e 20 giorni di prognosi, l'altro refertato con 7 giorni. Questo è il bilancio della folle aggressione alla pattuglia della Polizia Municipale e a tre auto di carabinieri che erano intervenute nel tardo pomeriggio di ieri a Livorno in piazza Tias dopo una segnalazione di assembramento. I carabinieri hanno poi denunciato alla Procura dei minori di Firenze un diciassettenne per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità che è stato anche multato con 400 euro dato che non indossava la mascherina. Sono in corso le indagini per identificare gli altri ragazzi, in tutto sarebbero una cinquantina che si sono appunto resi responsabili dell'aggressione agli agenti. Ma anche dei danneggiamenti alle auto delle forze dell'ordine. Alcuni spari sono stati esplosi nella notte scorsa contro un cartello stradale a Fiesole sulle colline di Firenze, esattamente in via del Salviatino. Sul posto, intorno alle 1.40, sono intervenuti i carabinieri avvisati da un residente che ha riferito di aver udito delle esplosioni e poi il rumore di due auto che si allontanavano a forte velocità. I militari hanno trovato poi quattro bossoli di pistola a terra e altrettanti fori di proiettile sul cartello. Indagini da parte dei carabinieri della stazione di Fiesole e del nucleo operativo della Compagnia di Firenze. Una testa di maiale a centro campo con tre croci posizionate sul terreno di gioco e uno striscione con scritto «Pagherete tutto, pagherete caro». Sono stati piazzati la scorsa notte da ignoti all'interno dello stadio Armando Picchi di Livorno. A denunciare il fatto ai carabinieri è stato il custode dell'impianto che stamani si è trofato di fronte alla macabra scena e ha chiamato il 112. Il custode avrebbe riferito che qualcuno si era introdotto all'interno dello stadio durante la notte appendendo lo striscione piazzando la testa di maiale e le tre croci in mezzo al campo. Il gesto sarebbe legato alla vicenda del caos che si è creato dalla cessione societaria da parte della famiglia Spinelli a un gruppo di soci che oggi non ha ancora provveduto all'allestimento della squadra. Un membro dello staff della Fiorentina ha risultato positivo al Covid. Lo comunica la stessa società Viola. Si tratta di un membro dello staff che è completamente asintomatico ed è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora quindi in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari. Annullata anche la presentazione di Martina e Squarta prevista per oggi. Inoltre il club ha annullato tutte le attività dei media, eccezione fatta appunto per il giorno della gara. Sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Firenze, sette uomini di età tra i 21 e i 36 anni accusati di far parte di un gruppo criminale specializzato in furti e rapine in appartamento in tutta Italia. I fermati tutti di etnia Rom e residenti in un campo nomadi di Secondigliano, Napoli, sono stati bloccati dai militari che hanno fatto irruzione in una villetta nel comune di Riparbella in provincia di Pisa. L'abitazione sarebbe stata scelta dalla presunta banda come base operativa per i colpi in Toscana. Nell'abitazione è stata sequestrata refurtiva di furti messi a segno nei giorni scorsi nelle province di Pisa, Lucca, Modena e Mantova. Sequestrate anche due auto di grossa cilindrata, ognuno con a bordo un lampeggiante blu, simile a quello delle forze dell'ordine e numerosi attrezzi da scasso, compreso un flessibile usato per scardinare casseforti. Nei confronti dei sette fermati reclusi nel carcere di Livorno, il GIP ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere. Il comune di Firenze ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre, come prevede il governo, la possibilità di tenere sedie e tavolini fuori dai locali, con l'obiettivo di tutelare le esigenze sanitarie e quelle lavorative ed economiche di un settore duramente provato dalla crisi legata al Covid. La decisione, spiega Palazzo Vecchio, è stata presa per cercare tempo permettendo di dare ai titolari dei locali maggiore spazio possibile da utilizzare per garantire il distanziamento tra i clienti. L'assessore al commercio Gianassi è al lavoro per formalizzare nei prossimi giorni il provvedimento di proroga. Anche nel Dipartimento Materno Infantile della ASA Toscana Centro, il recepimento dell'ordinanza regionale sulle visite in ospedale è applicato nell'ottica della riduzione delle presenze nei reparti ospedalieri che fanno parte del Dipartimento diretto da Marco Pezzati. In linea anche con le misure di accesso previste dall'ASA Toscana Centro, gli aggiornamenti riguardano in particolare il passo ai visitatori e la gravidanza Covid positiva. Per il passo è quindi autorizzata la presenza 24 ore di un genitore per i bambini in età pediatrica e naturalmente per il neonato. In sala parto è autorizzata la presenza del padre, mentre nel reparto di ostetricia quella del marito o del compagno una sola volta. Per quanto riguarda invece la gravidanza Covid positiva, anche in imminenza di parto il presidio di riferimento dell'ASA Toscana Centro diventa l'ospedale Santo Stefano di Prato. Qualora non fosse possibile la centralizzazione sull'ospedale Santo Stefano, madre e figlio dovranno essere gestiti nel presidio dove è avvenuta la nascita. La donna in gravidanza Covid positiva asintomatica dovrà eseguire i suoi controlli rutinari presso il punto nascita di pertinenza o nelle sedi territoriali dedicate. La parrocchia di San Leonardo in Gamberame ha chiuso la piccola chiesa della Cartaia nel comune di Vaiano in provincia di Prato. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo effettuato da alcuni tecnici che hanno ravvisato l'inagibilità dell'edificio. Le scosse di terremoto del dicembre 2019 che hanno avuto come epicentro il Mugello infatti si sono fatte sentire anche in Val Bisenzio e la chiesetta della Cartaia ha riportato alcune lesioni. Questi danni sommati alle infiltrazioni di acqua e al bisogno del rinnovamento dell'impianto elettrico e idrico sono alla base della decisione presa dal parroco Loporto di chiudere la chiesa al pubblico e di non utilizzarla per le celebrazioni finché non saranno svolti gli opportuni interventi di messa in sicurezza. E infine le previsioni del tempo per domani in Toscana tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso poi aumenterà la nuvolosità prima sulla costa e poi sulle zone interne. Nel pomeriggio nuove ampie schiarite in serata fitti banchi di nebbia al mattino su Mugello Valdarno Superiore e Valdichiana i venti di Scirocco deboli nell'interno moderati su costa e arcipelago i mari sono mossi e infine le temperature stazionarie o in lieve aumento sulla costa. Per questa sera è tutto grazie per averci seguiti arrivederci